Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Da non crederci, stasera faccio la mia prima uscita con le mie amiche dopo un anno da mamma, dopo un anno in pandemie di quarantene varie e sono emozionata, non so neanche come cavolo comportarmi. Dunque ho pensato di aggiungere un brio alla cosa, come vedete ho i capelli un pochino umidi e bagnati in questo momento, li ho appena appunto giusto sciacquati, perché voglio fare un grigio, un grigio veloce, usando il crazy color che avevo usato la prima volta in maniera sbagliata. Due settimane fa ho decolorato di nuovo i capelli per ottenere appunto questo platino, come vedete, faccio vedere meglio qui davanti alla finestra e mi piace molto questo effetto. Però come vedete questo colore qua, questo effetto qua, ce l'ho perché sono stati appena bagnati con l'acqua e i capelli bianchi quando vengono bagnati sembrano grigi e ho pensato, ma mi piace moltissimo questo grigio, perché non farlo diventare permanente, insomma senza l'acqua? Il crazy color è quello che ci vuole, va applicato sui capelli umidi per 15-30 minuti, dipende dall'effetto che vuole ottenere. Quindi procedo subito, così, senza neanche... Insomma mi assicuro di averlo messo dappertutto, come se fosse proprio uno shampoo, con i colori ad esempio più forti di Crazy Color, questo uno lo può applicare anche direttamente sotto la doccia, non so, con un colore tipo un rosso, ti fai la doccia, magari prima di insaponarti lo applichi, il tempo di insaponarti secondo me un rosso, lo tieni su comunque dei capelli già decolorati oppure su capelli molto molto chiari, sul biondo. Fatto, applicato, 30 minuti. Ok ragazzi, questo è il look che ho scelto, questo è un vestito che per non lasciarlo così com'è, ho adunto sopra questa camicia super colorata, tra l'altro del brand per cui lavoravo prima, e queste ciabattine, questi sandali col tacco bianchi aperti e queste orecchine del stesso colore che non mettevo da 100.000 danni, però ultimamente sono ossessionata dalle bandane e questa qua ci sta un sacco bene sopra, guardate, non so, almeno a me sembra che sia molto meglio, però che cosa mi sono colorata i capelli a fare se mi devo mettere sopra una bandana, no? Quindi opto per look così, poi al massimo, per cambiare durante la sedata, tiro fuori questa e divento qualcun'altro. Manca solo il rossetto e poi sono pronta per uscire, basta. Ragazzi, io non ci posso credere e non mi posso neanche guardare in faccia in questo momento, ma sta piovendo, io sono in macchina e sta iniziando a diluviare, cioè a diluviare, se questo non è un segno del destino, perché io sto uscendo stasera, non so come interpretarlo. Dove siete? Eccole, ciao! Compagna di serata, salve, ma sono l'unica ignuda? Io tipo completamente ignuda. Io sono ignuda sotto. Brava? Sì, sopra sono seri. Io non mi aspettavo la pioggia mentre ero in mezzo alla stagio. Sì, ti sta molto bene il rosa. Stai benissimo. Stai da dio, sì. Quale rosa? Tutto il rosa che c'è in te? No, ho fatto bene la panna! Sì, pure sulle lambe! No, 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 non sarò mai per voi, sono una parabola. Cin cin ragazzi, a questa serata la nostra, la nostra, centomila anni, eccoci, ciao Ciao, ciao Noelia, è un po' buio, però Dieci minuti dopo, sono ubriaca, ciao Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao Una mattina mi sono svegliato, bella Ragazzi, momento bagno per le ragazze qua, momento pipì, siamo già andate via dal Ciao, chi sei? Iscriviti al canale, il mio canale, come si chiama? Mi chiamo Nazareth, ma su Youtube? Subito, 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 abbiamo trovato un nuovo iscritto, voi andate a seguirmi, sono il cuore a metadone, poesie del nuovo millennio Sei un poeta? Si Fantastico Nazareth Dove sei? Si però iscrivi, aspetta Ecco Mi raccomando andate Cioè, devo essere testimone che tu clicchi e iscrivi Ma non so, ma è iscritto Grande Si è iscritto per davvero, guarda è arrivata anche la notifica, grande Invece voi dovete andare a seguire anche questo, soprattutto Seguite, aspetta che metto a fuoco Si legge? No Come si chiama? Come ti chiama? Sole e cuore a metadone Sole e cuore Come ti chiami? Juan 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 Scusate, stiamo chiudendo Ok, ciao Ciao ragazzi, buona serata Buona serata Ciao Tu come ti chiami invece? Virginia Ciao Virginia Mi seguiamo Ciambella Ciambella, ti seguirò Ciao Ciao Mi aspettate? Lei là? Non so, andate pure Scusate Scusate Ciambella Mi senti qua judge Ciambella Mi senti pallina Super ESS come sta succedendo? ma che cazzo succede? ma che cazzo fate voi? ma guardatele sembrano delle... ragazzi io direi che è chiaro che siamo ubriache fradice e siamo in un momento tipo foto ci facciamo le foto perché ovviamente dobbiamo... espresso facciamo un po' di sponsorship io sono un'aiutante esatto io voglio fare le foto lei vuol fare le foto lei non le vuole fare ma siamo tre... aspetta ti metto il rosetto interruzione pubblicitaria ma comunque un piccolo dettaglio è che siamo tutte e ubriache dopo un solo drink e quindi la cosa è veramente esilarante c'è un sacco di gente in giro testimonio veramente una voglia di vivere una voglia di ritornare a fare le cose di prima senza rotture di coglioni comunque ragazze non potete dire questo è un cazzo questo look sta meglio con la bandana period... period! l'avevo detto lo so! nooo! nooo! I love you! E' Clara, e' Clara! Vamo! Utama! Dica sì! Dica sì! Che bello fare piazza con gente così, così! Che bello! Te chiero, te chiero, te chiero! Te chiero, Chiara! Utama! Dica sì! ...channel on YouTube, because she have a YouTube channel, and you know we're gonna... Nice, nice, nice! No, no, no! Are you talking Italian? You're talking Italian! Who is it? You're talking Italian! No YouTube! We live here, of course, we're talking Italian! No, no, you're talking Italian! Big boy work like Deebo. I'm shooting like Broky Seagull. I don't know YG, I don't know Big Bro. He doesn't understand our Lingo Lingo. I don't know YG, I don't know Big Bro. In the meantime... In the meantime... In the meantime... Okay, so I'm with my girl, go fucking subscribe on our YouTube channel! All the way from Belgium. I don't speak Italian, but we don't deal with fucks! Yes! I just met him and I love him already, okay? He's the model too! Okay! Let me pose! No, no, let me walk! Okay! What?! yes 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 give it to me ok I 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 picchia da tanto eh! dei tempi ma entrambi togliamo il buracca hai visto? devi farlo apposta la lingua la sua bolgia non c'è nessuno 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 cosa stiamo facendo? era NET scuola di sopravvivenza era più bello del mio lo guardavo anche io erano i tre, facevano così scusami mi metto tu sei la ragazza più bella di stasera in colonne vero, concordo voi siete la sua ragazza? loro due sono la mia ragazza eh scusatemi non lo sapevo però veramente mi hai colpito col tuo stile la bandana prima di tutto la bandana è il tocco sei rasata o è tipo uno stile? sono rasata cioè ero rasata per un mese fa sì sì non c'è proprio io avevo già pensato a questa cosa mi sono proprio amata che ore sono ragazze? aspettatemi comunque ragazzi secondo me è giunta la fine di questa serata non so neanche che sono però è presto sono le mezzanotte e 57 quasi l'una io mi sto riprendendo assolutamente dopo quel drink cioè è passato un drink per mandatemi KO ci siamo riprese e adesso andiamo a casa una bella serata siamo divertite e speriamo anche voi nel guardarci bye buonanotte buonanotte iscrivetevi mettete like condividete mi raccomando swipe up swipe up ciao 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 ciao